Buon compleanno! Oggi lui compie 15 anni. Lui chi? Lui! Lo conosciamo tutti. L'euro. Ma la gente se ne sarà accorta e sarà contenta? Compie 15 anni. Chi? L'euro! Boh! La rovina! 15 anni di culata, andiamo bene. Vero? Che schifo! Ma perché tutti mi fanno questa faccia? 100% di inflazione subito. Sono stati 15 anni di povertà, 15 anni molto difficili. Perché l'Europa ci sta mettendo per carità. Quindi l'euro oggi lei non lo festeggia? No. Lei ha la frutta disidratata, ma si sono disidratate anche le tasche degli italiani però nel frattempo, in questi 15 anni. Penso proprio di sì. Cosa stai guardando? Sto cercando la lira. È morta 15 anni fa. Come mai con questo? Tutti la stanno cercando con questo casino? Se dal 2002, con un balzo temporale, arrivassimo nel 2017 per comprare il giornale, rimarremmo scioccati. Buongiorno. Buongiorno. Mi dà il quotidiano, per favore. Quanto costa? Un euro e mezzo. Come un euro e mezzo? Che l'ho pagato fino a ieri 1500 lire. Una volta, una volta. Un giorno, ce l'ha un tavolo, una pizza margherita? Quanto costa? 4,50 euro. Non costava 4.500 lire? Non mi ricordo quanti anni fa. Cosa ha da dire all'euro? Che è una... Come posso dire? Una cazzata. Come la corazzata Potjomkin. Sì. Guardi la telecamera e lancia un augurio all'euro. Crepa. Ma che ti dica? L'augurio all'euro? Sì.